11 gennaio, si tratta di una data importantissima per il video che state guardando Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video, mattutino Qui quest'oggi con voi per una succosissima guida Ragazzi miei, se non vado errato, quello di Xander, ovvero questo nuovissimo, presenta, barra, riavvia un amico E il quinto per me, cioè ragazzi miei ne ho già fatti 5 di questi E la prima è stata la più bella perché ho seriamente riavviato un vecchio giocatore che non giocava da circa un anno e mezzo a Fortnite E abbiamo completato tutte le sfide assieme Vi svelo subito come ottenere questa skin perché lo so che siete in vacanza, non state seguendo tutte le novità del gioco Non sapete che cosa sta accadendo attorno a questo game Quindi vediamo subito come ottenere la skin Xander assieme al suo bundle ovviamente Quindi tutti gli oggetti di contorno di questo bellissimo set L'ultima skin che ho ottenuto tramite il programma presenta un amico è proprio lei L'asso arcobaleno, se non la prima skin perché ragazzi in precedenza erano solamente item come Vrap, Picconi, Deltaplani e quant'altro E Ardua come cosa? Lo ammetto e da una parte sono fortunato a non avere expato tantissimo in questa stagione Quindi mi trovo al 172 Teoricamente potrò completare le sfide anche in questa stagione Perché ragazzi se mi trovassi già al 260 barra 300 la cosa sarebbe stata ancora più difficile Vi starete chiedendo il perché, non avete magari mai fatto queste sfide perché... Ci arriviamo subito, non preoccupatevi, vi spiego ogni singola cosa Prima però un bel pollicione all'in su da parte vostra E codico Martex della tienda TheFortnet Riaggiornatelo ragazzi miei, ogni 14 giorni è importantissimo per sostenere tutti 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 questi video mattutini Quindi andiamo al dunque, presenta un amico, serve appunto per far tornare vecchi player in gioco ragazzi E' proprio questo lo scopo del programma In realtà queste sfide possono essere completate attualmente anche con giocatori che giocano il game in maniera super regolare Quindi si può dire ogni giorno Ma credo si tratti solo di un bug e ben presto verrà fixato, 100% Ad inizio video dicevo 11 gennaio ragazzi Perché questa data? Perché avete l'occasione di registrarvi a questo programma Entro e non oltre l'11 gennaio 2023 Ma alt! Attenzione perché abbiamo un'altra data ragazzi Questa è la data di iscrizione La data per completare il tutto invece è il 20 febbraio 2023 Io spero di avere detto 2023 anche per l'11 gennaio Quindi abbiamo una data di iscrizione Attenzione a questa E ovviamente una data di completamento Non potete andare oltre quest'ultima perché addio ricompense Io mi metto qui al centro così non do fastidio a nessuno Come potete ben vedere Questi, 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 questi Sono tutti gli item presenti in questo fantastico bundle Che ci verrà consegnato in maniera totalmente gratuita Nel momento in cui completeremo tutte le sfide Assieme ad un nostro amico che riavvieremo Presenteremo all'interno di questo programma Quindi abbiamo Xander, primo e secondo stile Abbiamo il backpack, piccone, doppia lama Una frappozza quindi una copertura ed uno spray Spray che io ho già ricevuto perché sono stato invitato al programma In maniera totalmente casuale per qualche sorta di bug Dalla pagina principale che vi lascio qua sotto In descrizione potrete controllare Quindi monitorare ogni singolo progresso effettuato con i vostri amici Sta a significare che potrete vedere Il raggiungimento di ogni singolo obiettivo Ogni singolo item sbloccato Vedete questi lucchetti? Sono praticamente gli item che ancora devo raggiungere Non ho all'interno del mio armadietto Per il momento solamente lo spray crea un collegamento Lo spray che vi verrà appunto come dice la voce stessa Consegnato nel momento in cui inviterete Oppure sarete invitati da un vostro amico Non appena creerete questo collegamento tra di voi ragazzi miei Spray ha giudicato Dopodiché abbiamo Giocare una partita fortnite con un invitato E si sbloccherà subito Lavra possa Posizionati sei volte nella top 10 con il tuo invitato Molto easy direi per un backpack Elimina 45 avversari con il tuo invitato Ragazzi sono sfide che si fanno davvero in poco tempo Poi abbiamo tantissimo tempo a disposizione Si parla del 20 febbraio 2023 Quindi 45 nemici pure uno al giorno Ce la facciamo Dai 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 Ma è qui che viene il bello o il brutto o il difficile Per tantissimi che staranno guardando e ascoltando questo video Perché per ottenere il costume finale Quindi l'item più bello, più succoso, più desiderato da tutti quanti voi Ragazzi miei dovremo ottenere ben 60 livelli Sia per conto nostro Quindi significa che dovremo fare noi 60 livelli sul nostro account E altri 60 da parte del nostro amico Dell'invitato con cui stiamo completando queste sfide di presenta un amico volume 5 In totale sono 120 livelli 60 noi e 60 il nostro amico Quindi benvengano i nuovi player e coloro che ancora non hanno espato per nulla il pass battaglia GG 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 a loro Guardate un pochettino che cosa mi dice qui ragazzi Ascoltate bene Per iniziare Trova i giocatori idonei E diventa loro amico su Fortnite Giocatore idoneo Cosa si intende per giocatore idoneo? Lo dice subito qui dopo l'asterisco Meno di 2 ore giocate in una modalità di gioco standard Quindi singolo, duo, terzetti, squad e quant'altro Quelle con le build Ma possiamo completare queste missioni anche su 0 costruzioni Quindi meno di 2 ore in queste modalità Negli ultimi 30 giorni Attenzione Ovviamente ragazzi potete essere Gli invitati oppure gli invitanti E' uguale Da invitante potrete invitare ben 5 player diversi ragazzi Completare le missioni con loro Però ovviamente i premi si potranno ottenere una sola volta Da invitato invece ragazzi Non vi resterà che completare questi incarichi assieme al vostro invitante Quindi la persona che vi ha invitato a partecipare a questo programma La mia interfaccia attualmente risulta buggata Perché come potete ben vedere Purtroppo ragazzi miei ieri pomeriggio sono stato invitato al programma Presenta un amico da qualche burlone Che sfortunatamente non aveva nulla da fare Mannaggia lui Quindi attualmente io in questa iniziativa Risulto come invitato E posso giocarlo solamente da tale Quindi da invitato ragazzi Non posso invitare nessun amico Non posso giocarlo con uno di voi A scelta Eccetera eccetera Quindi ragazzi miei Non mi tocca altro che Eliminarmi da questo programma E rientrare da invitante Non so se ho reso l'idea Ma è quello che è accaduto Nel caso doveste avere problemi ragazzi Vi basterà cliccare qui in alto a destra Sulla sezione FAQ Perché ci saranno un sacco di domande E risposte Che sicuramente faranno al caso vostro Io la maggior parte delle cose Almeno quelle più importanti Ve le ho già riferite Ma comunque si Trovate questa bellissima sezione Piena di informazioni Ricordate solo le due date Che vi ho riferito ad inizio video Ovvero avete tempo per registrarvi A questo programma Entro e non oltre L'11 gennaio 2023 Dopodiché ragazzi Ad esempio Se vi registrate in questi giorni Avete tempo per completare Il tutto fino al 20 20 ragazzi Il 20 febbraio 2023 Ne avete di tempo Ne avete davvero tanto 60 livelli Li fate già in questa season E anche nella prossima Tranquillissimi Per dubbi Domande Chiarimenti E quant'altro Scrivetemi qua sotto Nella sezione commenti E codico Martex E la tienda De Farnet Riaggiorniamo Lo shop giornaliero E vediamo che cosa hanno droppato Quanto è bello lo sfondo Super acquatico Così ragazzi miei Mi mancava fare un item shop review Mi è mancato tantissimo Eccoli qua I nostri goleador Sezione super Sezione super sweaty 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 Sudaticcia ragazzi Mamma mia i sudati Che abbiamo qui Pesce palestra Ombra ammantata Contaggioso Un po' di hard style Ma non c'ho l'audio Raga Non sento Non sento E' bassissimo Posa sul bastone Ragazzi Belle i mot Questo oggi E' davvero Belle 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 No Che beat Qui ragazzi Eh questo non lo vedevo Da un bel po' Nello shop Forse 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 Anche questo Direttamente da Spongebob Mamma mia Aura Gilda Gaff Preparatevi per gaff Ragazzi Perché non so se avete guardato I leaks L'altro giorno In live Ma ci sarà una versione Super snella Di questo personaggino qua Bellissimo Avremo anche un piccone Molto simile E altre cosette Tutto all'interno Di un bundle Abbiamo il nostro Axolot Corallina E i due Sweaty Sweaty Qui a destra Shop Così Gli darei un bel Cinque e mezzo Sinceramente Senza considerare La sezione DC Ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo Video Matutino Registratevi Tramite il link Qua sotto Al nuovissimo Programma Invita Un amico Presenta Un amico Riavvia Un amico Come volete Intenderlo Tranquillissimi Ci becchiamo Prestissimo Ogni giorno In live Oppure in un video Matutino Alle 8 Un salutone Da Martex E come al solito Un bel Siiii BROTHERS!